Cari amici di calciomercato.com, ci sono due verbi che mi vengono in mente per il Milan di Stefano Pioli di ieri sera contro il Tottenham. A me sono vincere e rivincere. Poi non vanno bene nessuno dei due, perché Pioli ha vinto pareggiando. E riguardo a rivincere, nel senso che si è preso una rivincita. Su chi si è preso una rivincita Stefano Pioli? Su quelli che fino a poco tempo fa lo incolpavano per il rendimento del Milan. Lo incolpavano per essere passato alla difesa 3. Io ho sentito dire, ho letto, che il Milan passando alla difesa 3 aveva tradito la propria storia, ha tradito il proprio lavoro Pioli. No, era la soluzione evidentemente migliore. E prima di dire o di scrivere certe cose, sia che uno è un influencer, ho presunto tale, del web, sia che è un santone con tanti anni di esperienza, secondo me non dovrebbe dimenticare che comunque l'allenatore, e soprattutto un allenatore come Pioli, prima di fare un cambiamento, ci pensa, lo prova, sperimenta e soprattutto non lo fa mai a cuor leggero. Questo è Stefano Pioli, un personaggio che è l'antipersonaggio, perché a parte il coro, la ballata popolare Pioli is on fire, al quale anche lui si è fatto trascinare, perché insomma personalmente l'ho trovato anche un po' simpaticamente, come dire, eccessivo anche, quando si metteva a ballare insieme alla curva Pioli is on fire, però, a parte quello, è un personaggio schivo, un personaggio educato, un allenatore che non si lamenta, un allenatore di società, un allenatore che ha avuto tante esperienze, anche buone in passato, ma non sono state mai valorizzate, e così rischiava di non essere valorizzato, è neanche lo scudetto dell'anno scorso, che è stato un capolavoro, è stato un miracolo. Questo Milan non era, l'anno scorso, la squadra più forte del campionato italiano, probabilmente quest'anno non è tra le squadre otto più forti dell'Europa, eppure è lì, perché? Beh, perché ha giocato bene, ha giocato bene anche individualmente, non tanto nel giocatore più atteso, Raffaele A, l'uomo che doveva fare la differenza, il ragazzo da 100 milioni di euro, a confronto Giroud sembra un professore, e Lea uno studentello, questo almeno si è visto contro il Tottenham, e poi ha vinto il Milan, perché come gioco, come collettivo e come individualità è andato meglio del Tottenham, di Antonio Conte. Ecco, tutto quello che è Pioli, Antonio Conte non lo è tanto, o almeno non gli viene tanto naturale, diciamo così, essere un uomo di società, si è sempre lamentato, e una volta non andava bene questo, una volta non andava bene quello. Ora, non è diventato all'improvviso Conte un allenatore che non è più buono a nulla, anzi è tutt'altro, resta sempre un top allenatore, ci mancherebbe, però la lezione di Pioli e del Milan al Tottenham e a Conte va ben oltre questa qualificazione, secondo me, questa partita, perché è più ampia, significa anche una lezione su come bisogna comportarsi con la società, nella comunicazione, significa che non sempre chi si agita di più ha ragione, chi strilla di più ha ragione, chi è più negativo ha ragione, no, significa tutt'altro, una volta Pioli lo chiamavano Normal One, e sembravano un'accusa, invece è un complimento, in Milan, questo Milan normale, che sta ottenendo dei risultati che non sono normali, merita un grande applauso, e posso dire, personalmente, avevo fatto un pronostico che sono contentissimo di aver sbagliato, io pensavo passasse il Tottenham, sono strafelice, come tutte le squadre italiane che vanno avanti in Champions, ma questa ancora di più, di aver sbagliato un pronostico, e sono proprio contento che il Milan vada avanti, perché sono contento di applaudire il Milan, i suoi giocatori e un grande allenatore.